Basta, bisogna proseguire. Queste sono cose che si pensano ma non si dicono. Tutto esaurito al piccolo teatro Orazio Costa di Pescara, per il reading a cura dell'attore e regista Domenico Galasso, tratto da Carbonio, dal sistema periodico di Primo Levi, con introduzione a cura del professor Stefano Redaelli, dell'Università Artes Liberales di Varsavia. Lo spettacolo è stato allestito in occasione della giornata della memoria su un testo che propone una riflessione universale sulla vita e sulla sofferenza dell'uomo. Sul palcoscenico del piccolo teatro Orazio, Domenico Galasso, noto anche per la sua interpretazione nella fiction Mare fuori, ha riscosso un grande consenso di pubblico con lunghi applausi anche per la replica domenitale. Primo Levi scrisse di aver concepito l'idea alla base del racconto Carbonio quando si trovava in carcere ad Aosta, dopo l'arresto e prima della deportazione ad Auschwitz. Questa, in scala umana, è un'acrobazia inironica, uno scherzo da giocoliere, una incomprensibile ostentazione di onnipotenza prepotenza. Altri appuntamenti con la programmazione del piccolo teatro Orazio Costa di Pescara sono previsti per sabato 10 e domenica 11 febbraio con la lezione della follia, spettacolo dedicato a Franco Basaglia nel centenario della nascita. Fa tutto precisamente parte del nostro progetto che si chiama il teatro delle parole. Perché? Perché fondamentalmente sono le parole la nostra più meravigliosa invenzione ed è con la nudità delle parole che noi andiamo in scena, senza costumi, senza scenografie. Stefano Ridaelli, scrittore e docente, qual è secondo lei la più grande lezione di Primo Levi dal punto di vista linguistico ma anche di struttura dei romanzi e delle opere? La lezione di Levi è quella di chi travasa il suo mestiere di chimico, cioè l'arte di pesare, separare e distinguere nella letteratura. Di chi fa della chimica un patrimonio immenso di metafora, una lunga ombra simbolica, di chi usa la chimica come un filtro per raccontare l'indicibile, per raccontare il lager e la chimica gli permette di trasformare questo racconto in uno studio pacato su alcuni aspetti dell'animo umano. Ecco, forse questa è la sua grande lezione, essere al contempo uno scrittore, un letterato, avere Dante dentro di sé e avere la chimica che gli consente anche di trovare una distanza, un filtro, un modo di raccontare un'esperienza indicibile attraverso la metafora, la prospettiva dell'esperimento.